Da oggi per il Dipartimento della Protezione Civile la provincia di Ragusa relativamente al pericolo del maltempo torna in arancione. Pericolo scampato dunque per la provincia di Ragusa che è stata solo sfiorata dal ciclone mediterraneo Apollo che tanta paura ha causato e che ha portato ad una giornata con pioggia pressoché incessante e vento forte. Ma fortunatamente sono stati più i disagi che i danni. Dunque si torna in arancio, eccezione fatta per la città di Modica dove il primo cittadino ha scelto di estendere la zona rossa fino alla mezzanotte di oggi. Come si diceva, unico comune dove Ignazio Abate ha scelto di estenderla perché Modica insiste tra la zona arancione e quella rossa. A Scigli una frana del costone roccioso della cava di Santa Maria la Nova ha causato ieri la chiusura della via Dolomiti e l'evacuazione degli abitanti di una casa vicina. E sempre a Scigli sono caduti dei massi, pali e alberi, ma fortunatamente nessun danno a persone. Alcuni sassi sono caduti, in particolare su un'autovettura, ma fortunatamente sono rimasti illesi padre e figli all'interno dell'abitacolo. La forza di Apollo si è poi avvertita di più a Pozzallo, anche se ad essere colpita è stata in particolare la costa del Siracusano. A Modica ieri si sono registrati danni ad alcune abitazioni del centro storico, allagamenti e smottamenti e cumuli di detriti. In periferia poi sono corollati alcuni muri di contenimento, ma la situazione è stata monitorata costantemente dal centro operativo comunale della protezione civile. Il sindaco ha invitato oggi tutti i dirigenti scolastici del comune a verificare la condizione delle scuole prima del ritorno degli studenti. A Comiso e a Vittoria fortunatamente nessun danno, con vigili che sono intervenuti per qualche ramo di albero o piccoli allagamenti. Disagi anche al mercato di Fanello, dove la pioggia è caduta in alcuni box. Anche a Vittoria scuole e uffici pubblici chiusi. E se oggi si prospetta una giornata tranquilla con il maltempo che concede una tregua, pare che non sarà così nel pomeriggio di domani in provincia dove torna nuovamente la pioggia. Le temperature comunque non si abbasseranno ulteriormente. Rimane ancora da fare però la conta dei danni per i settori economici ed in particolare per il settore agricolo, da sempre più colpito dai fenomeni meteorologici. Le attività commerciali hanno ieri lavorato a minimo. I sindaci comunque anche per la giornata di oggi raccomandano prudenza e attenzione, dato che non si può dire del tutto che il maltempo ha abbandonato la provincia. Grazie. 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 Grazie.